Nomi no, mio figlio Giacomo, erede al trono e mio successore. Perché papà ha lasciato tutto a me? Giacomo, insoddisfatto autista ATAC, scopre di aver ereditato dal padre un regno medioevale alle porte di Roma. È l'incipita del film Il Regno, del regista esordiente Francesco Fanuele, scelto per la serata inaugurale di Cinema in Piazza, rassegna estiva, organizzata dal Cinema Filo con la Società Filodrammatica Cremonese e la Collaborazione del Comune, iniziativa giunta alla seconda edizione che avrà come fil rouge la commedia. Commedie per stemperare il momento storico, per invogliare anche la gente a tornare, se non nella sala cinematografica, però sicuramente ad usufruire degli spazi pubblici e appunto dell'arte cinematografica. Sono cinque gli appuntamenti con la settima arte, ad ingresso gratuito e senza obbligo di prenotazione, che si terranno dal 9 luglio al 27 agosto alle ore 21.40 nei quartieri. Si incomincia venerdì 9 luglio con Il Regno, in piazza volontariato allo Zeist, per proseguire con Sirano Bonamur, te presento Sofia, il GGG e i belli di papà. Negli scorsi anni avevamo fatto spettacoli, quest'anno non è ancora possibile, ma crediamo davvero che questa iniziativa sia importante anche per decentrare un po' le attività culturali, perché crediamo che occorre portare la cultura anche vicino alle abitazioni, alle case dei nostri concittadini. La rassegna è anche un modo per promettere al pubblico cremonese una riapertura della sala, che tranne una serata speciale è rimasta chiusa per l'intero 2021. Si pensava nel weekend del 20, 20 agosto, di riprendere le programmazioni qui direttamente in sala. La scelta di aspettare alla riapertura è anche quella per avere un numero di film a disposizione maggiore, pensando che arriverà il Fai Stata di Can, ci sarà anche Venezia. Luoghi, date e dettagli dell'iniziativa Cinema in Piazza sono disponibili sul sito web del Filo. Trattieni il fiato e incrocia le dita, si parte!